Il piano del Prince Carlo per una monarchia snellita potrebbe presentare grandi rischi con i reali diffusi in modo più sottile, ha affermato un esperto costituzionale. Quest'anno, la regina Elisabetta II celebra i 70 anni sul trono, una pietra miliare che nessun altro monarca britannico ha mai raggiunto. Il suo regno storico sarà commemorato durante tutto l'anno, con le principali celebrazioni che si svolgeranno durante un giorno festivo di quattro giorni a giugno. Negli ultimi mesi, Sua Maestà, 95 anni, ha fatto un passo indietro dai doveri reali per problemi di salute e, così facendo, l'attenzione si è rivolta al figlio maggiore, Carlo, che un giorno le succederà, è stato a lungo detto che il principe di Galles ha grandi piani per scuotere la famiglia reale una volta salito al trono. I rapporti affermano che Charles ha un piano a lungo termine per snellire la monarchia, il che significa una possibile ricalibrazione di ciò che significa essere un reale lavoratore. Punto. Tuttavia, un esperto costituzionale ha avvertito che i piani del futuro re potrebbero comportare grandi rischi. Parlando nell'episodio di giovedì del podcast degli eventi di scienze politiche dell'UCL, il dottor Craig Prescott ha dichiarato, «Penso che ci siano potenziali grandi rischi nel dimagrire le dimensioni della famiglia reale. Perché come dice Bob, il dottor Robert Morris, la domanda è, cosa è destinata a fare il la monarchia, ma penso che l'altra domanda sia, cosa smetterà di fare? E creerai, forse, un po' di delusione per le cose che poi verranno tralasciate. C'era già una storia che ho letto sul giornale e non so quanta credibilità abbia dicendo che i BAFTA erano delusi dal fatto che il principe William non avesse partecipato di persona ai premi del film Domenica. Il duca di Cambridge è patron della British Academy of Film and Television Arts dal 2010. William non ha partecipato all'evento annuale di Domenica. Punto. È invece apparso in un video pre-registrato andato in onda durante lo spettacolo. Un portavoce dei BAFTA ha annunciato la scorsa settimana che il duca non avrebbe partecipato all'evento di persona per vincoli di diario. Il dottor Prescott, un avvocato costituzionale, afferma che snellire la monarchia potrebbe significare che sia i reali che lavorano, sia le organizzazioni a cui sono affiliati, sono diffusi in modo più sottile.